Hai notato che ogni volta che c'è un lavoro pesante da fare, Megatron sparisce chissà dove? Morditi il tuo sintetizzatore vocale! Non hai capito che Megatron ci guiderà alla più alta gloria! Ehi, amico, stai bene? Ti sembra che stia bene? Secondo te questi montanti da volumi ingrassano? E non mi...